Ferre, l'assistente segreto a quanto pare ha parlato con alcuni dei villager alieni che ci sono qui sulla luna E ha detto di andare a parlarci perché hanno qualcosa di interessante da dirci Quindi andiamo a chiacchierare con loro Ma scusa Steph, cioè l'assistente segreto riesce a fare anche cose qui sulla luna? Ma com'è possibile? E come fa a comunicare con quelli che non si capiva nulla? Scusa, guarda l'armatura che ci ha dato, fa tutte le lucine strane Io non so che tecnologie abbia l'assistente segreto Non ne ho idea Ma c'è qualcosa di strano Ma ti ripeto, riesce a fare le cose pure sulla luna? Aiuto A quanto pare sì Uh, quanto si vuole, è vero Eh, lo so, non sei ancora abituata, vero? Esatto, no, non mi abituo Anche se ci siamo da qualche giorno non sei ancora abituata Allora, il suo testone copre il suo nome Quindi io l'avrei anche voluto chiamare per nome Kencarot, se stanti lo leggi Kencarot Kencarot Ciao Kencarot, ma se io premo questa leva Aspetta, no, aspetta Una alla volta, premila Uh, che figo Ma che figata Ma sei fighissimo, Kencarot Vabbè, torniamo seri, parliamo con Kencarot Allora, salve viaggiatori Siete venuti fin qui per visitare le mie famose miniere? Si gonfia il petto Ma si sta pavoneggiando qui, Steph Famose E lui è già che si pavoneggia Infatti, quali famose miniere? Non li abbiamo mai sentito a nominare Kencarot mio Le famose miniere di Kencarot Lui ne è molto felice Non l'offendere È tutto gonfio in questo momento Poverino Sono pieno di grandi ricchezze e profonde gallerie Che hanno richiesto anni per essere costruite Wow Ok Dalla terra non neanche si sapeva che c'è una specie aliena che vive sulla luna Steph, basta Quindi non è che conosciamo Siamo ospiti sulla luna e ce ne dobbiamo andare Quindi comportati bene Oh wow, possiamo vederle? No, non scendete lì sotto Ma come? E vabbè, che caro Ma che sei? Perché? Che succede? Sono diventate infestate dagli alieni spaziali Ah, pure Cioè Ci stanno varie razze di alieni Sono alieni che arrivano da un altro mondo Eh, evidentemente sì Ok E hanno preso possesso delle mie miniere Facendo diventare la loro casa Oh, le mie bellissime miniere Ma è tristissimo Sapete Mi sembrate forti Sareste disposti ad andare lì dentro e cacciarli via per me? Ho alcune armature nella cesca vicino E alcuni oggetti che non si possono ottenere normalmente Fallocchiolino Potreste tenerli se mandate via gli alieni Ma certo Sta cercando di corromperci quell'occhiolino Secondo te Abbastanza Era un po' Grazie mille Prendete tutto ciò di cui avete bisogno Ok Inoltre c'è un'ultima cosa nell'ultima stanza delle miniere E se riuscirete ad arrivarci potrete tenerla Vi permetterà di viaggiare su altri pianeti lontani Io non ne ho bisogno essendomi sistemato qui sulla luna Buona fortuna Non è che parla della navicella di Tier 2 Che ci permetterebbe di andare su Marte Probabile Lui parla di mondi lontani perché ovviamente non penso che conosca tutti i mondi che ci sono Ma magari ci permette non solo di andare su Marte Ma poi anche di tornare sulla Terra o qualcosa del genere Oh non lo so Forse per tornare sulla Terra ci vuole un altro razzo Non ne ho idea Speriamo di poter andare su Marte comunque Non ne ho idea Ok le ceste sono qui chiaramente Vediamo le ceste Io mi prendo questo Abbiamo una cesta di diamante Possiamo metterle tranquillamente ste armature di diamante Ho un po' paura Ah ok la mette sopra Perfetto La sovrappone Capito? Eh no certo perché avevo paura Steph Sono molto importanti qua le nostre tute Lo so lo so altrimenti moriamo senza ossigeno Quindi è ovvio che sono importanti Ma l'hai visto che ci ha dato L'ossigeno infinito Così non ci dobbiamo rompere le scattole E certo Tutto il tempo E poi abbiamo un po' di cibo Ah meloni deidratati Faranno un po' schifo E delle mele d'oro Che interessante Le spade sempre di titanio Che le avevamo già viste Che c'è? Non ti voleva interrompere Però tanto l'abbiamo visto tutti Cosa avevamo Quindi ok Ma dai Steph non rompere Allora con la gravità della luna Prendiamo danno cadendo Io provo a buttarmi qui sotto No No ma io voglio proprio Si può fare questo No no Steph Morirà Un cuore e mezzo Ma è bellissimo Pensa a fare un dropper sulla luna Sarebbe il dropper più facile del mondo Cavolo dovremmo farlo Hai visto? Eccomi Sì Ok Oh cavolo Steph Fere Ma dove siamo? Che carino che sei Con la cosa in diamante sotto la tuta Ma l'hai visto? Siamo proprio spaziali Ho un po' di paura Parte 1 Essendo scesi così Non so come risaliremo Prima domanda Speriamo ci sia un'uscita Seconda domanda Non è un po' inquietante il fatto che Che ci siano le torce già messe così Come dire Andate avanti Steph No però aspetta Andrà tutto bene No 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 Non è andata avanti Sulle sue miniere Eh ok però Però c'è da dire Steph Che sono spenta queste torce A me fanno un po' di paura È un po' buio C'è una ceste C'è una ceste vero? Sì La vedo qui Ok Allora Meteoriti Altri meloni Olio Leggi il libro Leggi il libro Magari ci ci No è un ancient book Fere che c'è da leggere Ma non capisco perché è tutto così spento Queste torce Fammi vedere una torce di queste Cioè che Che tipo di tecnologia è? Perché lì c'è torce Penso sia il tipo di materiale Che non può funzionare Perché io appena la piazzo Vedo un sacco di luce Ok Che io non vedo E poi diventa subito buio Che succede? Ho lanciato un urla L'alieno di sopra Ci ha tirato un po' di pozioni Eh beh no no Non posso risarire Sei stata un po' minacciosa Porca mia Fai sempre paura 3 a testa Spero ti bastino Ok Anzi ci bastino Allora quanto durano? 8 minuti l'una Abbiamo 24 minuti Ok Per risolvere la situazione Nelle miniere Ok vai Stai attenta Fere Oh no 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 Sono zombie Con la tuta per l'ossigeno Fere perché quando mi Cosa ti succede? Non ho capito Non lo so Tipo mi assuntava il personaggio Quando mi colpiva Eh perché abbiamo Una gravità strana qui Stef Esatto Quindi è normale Che il combattimento sia diverso Eh non abbiamo neanche torce Per bloccare lo spoon Io ne ho una Però si spengono In questa dimensione Stef Si spengono Dimensione Siamo sulla luna Si spengono sulla luna Ok allora Oh mio Dio No 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 Che vuol dire Che volvi di scheletto Il boss Che cos'è? Aiuto No aiuto Cos'è questa risata brutta Stef? Che cosa brutta? Che cosa brutta? Lo sto colpendo Stef Mi ha preso Sembra che abbia un sacco Ha un sacco di vita Non gli sto facendo così tanto Stef è inquietante Io voglio tornare sulla terra No Ti ho preso Stef Uccidilo Ok mi ha mollato Io lo colpisco No lo puoi colpire Lo puoi colpire Colpisci Mi deve mollare Mi deve mollare Mi deve mollare Cioè questi alieni Non mi piacciono Stef E' cattivissimo Ok Ce la stiamo facendo Stef Ma te ne sei andato davvero? Stef Stef aiutami Io l'ho combatto da sola Tu sei un fallito E tanto tutte le ricchezze Me le prendo io Delle miniere Stef Colpisci Non lasciarmi Ha fatto alcuna le spalle Non lasciarmi in valia di stomaco Dai Stef è quasi morto È quasi morto Che cavolo è successo? Ma la smetti di ridere Ha urlando come un pazzo Dov'è? Stef gli manca un colpo Un colpo Ma 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 Non muore Stef Aspetta aiuto Aiuto Fammi allozzanare Che fa Stef Aiuto Amico Ho una chiave Una chiave Cos'è? L'hai presa? No mi sa che hai presa tu L'ho presa io Che cavolo è? Dungeon key Mi hai dato la chiave di un dungeon Stef Non so se ci potrà essere utile In questa precisa situazione Ma guarda Tu sei pieno di frecci addosso Sì mi hanno fatto male Ok Mangio un po' di melone Stef Di melone Anche io ho voglia di melone Aspetta Mangiamo un po' di melone disidratato Uno E due Mamma mia Non mi aspettavo Ma scusa Ok che ci ha detto alcuni alieni di un altro mondo Ma trovarmi sto mostro Anche era un boss Stef Era proprio un boss Sì 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 Aveva anche la barra Era inquietante Con quella sua risata malefica Qua c'è una chest Ma aspetta Ah Devi usare la chiave per aprire la chest Aspetta Vado Prendo tutto Aspetta Ok No abbiamo Un enchanted book che crea l'infinity Proprio come noi abbiamo l'ostigione infinito Le cheese curd Che cavolo sono le cheese curd Sembrano fette di formaggio Stef Io le prendo Ok Questo è molto importante Stef Il workbench della NASA Esatto Perché praticamente è un blueprint Che probabilmente ci permetterà di fare qualcosa di bello Forse il razzo Il razzo No Il razzo stava nell'altra chest Ma davvero NASA workbench schematic tier 2 rocket Me lo sono appena Questo che cos'è? Mi dice Cosa sarà il moon buggy? Voglio provare a farlo Quello che ho io si chiama moon buggy Ma non è che è una macchina? Oh la macchina per la luna E può essere Oh mio Dio Stef la voglio fare E lo so Ma l'hai vista che bellina la chest Che rimane con la chiave insieme È troppo carina Comunque Stef Che figa sta cosa Abbiamo risolto la situazione Delle famose miniere Ma come torniamo di sopra? Non lo so Non c'è una scala Lo so Un passaggio Niente Eh no E poi se non ci muoviamo Ci rispondono mob Eh sì Mob alieni di nuovo Io la mia tattica ce l'ho Qual è? Ok Dove sei finito? Ok Ce la posso fare No Stef penso che dovremmo Da qui scusa C'è un passaggio no? No è solo pieno di mob Aiuto Fare una specie di scaletta E lui va senza di me ovviamente Già Fatica Incredibile risalire Porca miseria Io lo sapevo che sarebbe stato un casino Mangiano troppo di melone Perché mi sto stancando Qua è davvero faticosa È una bruttissima vita Ok Allora Rischio Di uno E più o meno Ci sto arrivando Aspetta vengo da te Cosa? Eh? Cosa vuoi fare? Scusa Niente Stef Cose che tu hai già fatto in altri video E siccome sto sempre io Ho sconfitto Ma Ma Non posso venire da te Perché? Boh Aspetta Forse ho sbagliato qualcosa Ok ora si Ho schiaccia E adesso? Dove siamo? Che fatica E ti dicevo che io ho sconfitto il boss Quindi me lo meritavo di essere portata su Fede picchia Lo sto picchiando Dicevo Ma dovevi portarmi su in braccio Stef In spalla Totalmente Perché tu hai fatto il codardo E mi stavi abbandonando lì Con quel mostro che rideva Con quella risultata inquietante E mi stava portando via Vabbè Non so dove mi volevo portare Tu che si dovevi affrontarlo Eh no Lo lasciavi lì Stef Sì Ok Ok Favamo parkurare adesso Ok Come hai fatto? Ciao Ok Ancare Le tue miniei facevano schifo Non glielo dire Stef Che ci rimane male Ok Ce l'ho fatta Cioè Quella roba lì dentro Brutta brutta E poi non c'era niente di che Comunque come miniera Non mi ha neanche stupito Cioè a parte sti enderman Con il caschetto Ok In carretto non c'è nulla di interessante Nelle tue miniere Ok Fede Il razzo numero 2 è pronto Siamo pronti a ripartire Ma Stef Non sei nessuno Se non hai la moon buggy Ciao Stef Quella che ho trovato nel Nel dungeon Scusa Fede C'hai una macchina La macchina della luna Sì La moon buggy No La voglio provare No Fede No Chi ha ucciso il mostro? Siamo amici Chi ha ucciso il mostro? Chi è che ha vinto la battaglia? Fede Tieni dai Che se no rompi le scatole Per cent'anni Vai Stef Vedi almeno si può andare in giro Per la luna Molto più velocemente Che strano poi Perché sbatte E appena sbatte La gravità La fa alzare Quindi riesce a salire Le montagne Cioè guardate Pum 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 Può fare di tutto È molto efficace Si ingolfa Ma piano piano ce la fa Cavolo è pieno di mostri qua Ma che ci fate Andate via Beh credo perché sia notte Ma esiste il giorno della luna? No 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 Sono usciti fuori dalla caverna E stanno prendendo danno Quindi tecnicamente È il giorno della notte Non lo so Non ho idea È il giorno della notte lunare Non lo so Non so come funziona nella luna È un po' strano Eh vabbè Allora la macchinetta La lasciamo qua Nel caso in cui noi Decideremo di tornare nella luna Per altri affari in futuro Esatto E adesso Però il razzo Steph Perché non hai fatti due? Eh Fede perché Costava troppo Ma io non ci sto Ciao Fede Dai Steph Mi attacco al razzo Mi attacco al razzo Dai Steph Fede non ci posso fare nulla Dai smettila Non ho voglia di stare con questi villageri E farmi il razzo Che noioso che sei Sei una persona noiosa Vabbè ci Ci vediamo su Marte Ma lo dovevi fare anche per me Non ci riuscivo Come non ci riuscivi? Non avevamo abbastanza materiali Ma guarda che i materiali sono pieni villager Secondo te dove gli ho presi i materiali per la moon buggy? Me li hanno dati villager Mi sta anche a pace dopo Andare a fuoco Imbecille E anche la luna È stata abbandonata Sembra che stiamo tornando sulla terra Vediamo cosa puoi raggiungere Ma non torneremo sulla terra Io non voglio tornare sulla terra Io voglio andare nel posto successivo Abbiamo Allora Mercurio Tir strano Venere Tir tre Marte Tir due Asteroide Tir tre Jupiter Ok Vabbè questi Tir C'è pure il sole Ah no Ok non c'è il sole Meno male Sì che c'è il sole C'è? Sì Cioè ci si può andare Vabbè comunque abbiamo una sola scelta Ti odio Steph Io continuo a giocare Ma che ti è successo? Non lo so Rallenta Rallenta Non posso Che ti è successo? Non ho idea Sono in una sorta di cosa che mi fa rimbalzare E piano piano sto atterrando Ok E credo di essere su Marte È una capsula penso Capito? Sì Fere ma è notte Esci No non esco Sono circondato da mostri Fere Oh cavolo Dovevo aspettare il giorno Arrangiati Steph Sei andato lì senza di me Arrangiati totalmente Quanto tempo ci vuole per un giorno di Marte? Dovrà aspettare qui dentro finché Non tornerà giorno Perché ci sono troppi mostri per uscire fuori Cavoli tuoi Steph Oh cavolo